Io vedo un gruppo di giocatori che in settimana lavora tantissimo e lavora bene, la domenica vedo un gruppo di giocatori che non posso dire che non si impegnano, ma bisogna dare di più a partire da me, bisogna dare di più, non ci si può accontentare, non si può fare il compito. L'impressione che ho avuto io, poi magari rivedo la partita e cambio idea, non lo so, è che tu fai un primo tempo in equilibrio, comunque in questi momenti di difficoltà, quando ieri abbiamo perso Nicolussi all'ultimo momento, non avevamo cambi al centrocampo, però ho visto una squadra viva che ha provato a giocare, che ha provato a combattere e quant'altro. Poi nel secondo tempo è come se si fosse accontentato del primo tempo, vedo un gruppo di ragazzi che quasi quasi manco si arrabbia, è quello che dà fastidio, è quello che non deve mancare mai, è lottare fino alla fine, perdi 2-0, cerca di non prendere il terzo gol, cerca di farne un altro, fai una rincorsa in più, lotta di più, fai un contrasto in più, è quello che dobbiamo mettere in più. Non ci si deve accontentare, dobbiamo crescere di più, tantissimo di più sotto questo punto di vista.